Sono pronto, è acceso? Siamo qui per fare il brindisi del mio compleanno in una forte compagnia Porta! Porta perché io pensavo che qualcosa sia pronto Facciamola vedere anche se non si vede nulla, è tutto buio Però è tutto buio ma è importante Salutate, salutate il brindisi però Saluta, no, no, saluta Andre, saluta, ciao Andre, c'è anche Andre, c'è, ma che cavolo Doveva arrivare con la sua filetta opencorsa piena di fighe e non ne ha portata neanche una Bocciato Andre Salutate il brindisi, salutate il brindisi, salutate il brindisi E perciò il brindisi, ora, 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 ora Ci stanno cacciando, ciao Aspetta, salutate anche voi, ciao, chi si vede Se non parlate Questo qua che non vedete al buio è il mio nuovo concorrente di clippini su Facebook Bravo, rispetto per i pianiziali di Facebook No, sì, ma perché sono proprio le altre Vai, sopra il mio piano Ciao